Ciao, ben trovato, sembra quasi incredibile la tua storia senza giri di parole, sei stato già legato tanti anni a questa squadra, poi l'anno scorso una stagione molto tribolata, particolare, dentro la rosa, fuori la rosa, poi sei andato e sei tornato. E' come la canzone di Venditti, certi amori non finiscono. Sì, sono molto contento di essere tornato perché sono legato a Brescia, è arrivato qua otto anni fa, l'ultimo giorno di mercato di otto anni fa, qui sono arrivato appunto da ragazzo, sono cresciuto e sono contento di avere la possibilità di essere ancora qui e aiutare la squadra. Visto che sei tornato, mi chiedo se si respira lo stesso clima, se respirava un tempo o se nello spogliatoio, nella squadra, nell'ambiente c'è qualcosa di diverso e naturalmente sto parlando anche del fatto che la squadra ha fatto un cammino importante fin qua, quindi insomma la parola che noi diciamo, penso che magari tra di voi la pensiate realizzate. Ma noi vogliamo dare il meglio partita per partita, raggiungere l'obiettivo il migliore possibile. Ho trovato vecchi compagni che già conoscevo, nuovi ragazzi pronti, che stanno dando tutto per il Brescia come abbiamo visto dai risultati e insieme cercheremo di far gruppo e raggiungere il risultato migliore. Sì, sono appena arrivato, quindi sto cercando di integrarmi il più velocemente possibile. Ovviamente di Cistana non devo essere io a parlare perché ultimamente, da un po' di tempo, sta facendo benissimo. E come dicevi, per i due difensori centrali è importante trovarsi sin da subito, quindi il nostro obiettivo già nei primi giorni è quello di conoscersi, poi spero che riusciamo a diventare un'ottima coppia come anche con gli altri centrali perché ci sarà bisogno di tutti e chiunque giocherà dovrà sicuramente dare il massimo perché il campionato, come si è visto, è molto difficile e vogliamo toglierci delle soddisfazioni tutti quanti. Ascolta, è una trattativa molto complicata che sembra essere iniziata addirittura ai primi giorni di mercato e che il Cittadella non ha gradito, come avrai letto. Se vogli raccontarci come è andata e cosa rispondi a quello che ha detto Marchetti, visto che ti ha attaccato personalmente. No, ho poco da dire, nel senso che avevo detto alla società da tempo che se ci fossero state delle occasioni molto importanti per me mi sarebbe piaciuto mettermi in gioco, quindi già nell'estate scorsa c'era stato qualcosa e per fortuna il direttore, il presidente e il mister hanno puntato forse su di me e ero contento di questo. Poi quello che posso dire in questo momento è sicuramente ringraziare i quattro anni e mezzo che ho passato a Cittadella, questo sicuramente e lo farò per sempre. Nulla cambierà quello che ho provato, quello che ho vissuto in quella società lì e l'emozione che ho provato con i miei compagni e con tutta la gente di Cittadella. Ho sempre dato il massimo e adesso l'unico mio pensiero è farlo per il Brescia ed è tutto qui. Grazie. Mi rientro proprio a te Erika, se ti ha detto Lorenzo che certi momenti non finiscono anche nel calcio, mai dire mai di niente, sembrava che un avvio definitivo e invece un ritorno. Un ritorno cercato, voluto da ambo le parti, si è concretizzato velocemente perché c'era la volontà di entrambi appunto e siamo tutti contenti. Ciao, ben trovato. Ma se quando sei andato via ti avessero detto che saresti ritornato, ci avresti creduto sinceramente, ricordando comunque a quei mesi molto molto difficili, sono successe tante cose anche a livello ambientale, alcune anche spiacevoli. Se te l'avessero detto ci avresti creduto? Ma probabilmente no, però le cose nel calcio sono così, un giorno può succedere di tutto, quindi è successo e ripeto, siamo tutti contenti e è andato bene. Ti aspettavamo qualche mese fa, poi all'ultimo si è saputo che sei passato a Vicenza perché allora a noi adesso sì. Beh, è stata una scelta di questo estate dove avevo queste richieste, quindi mi sono sentito di scegliere Vicenza, quindi ho fatto la scelta che mi sentivo in quel momento, è ovvio che la rifarei perché se no non butterei questi mesi iniziali, è ovvio che sono andato lì e c'è stata una situazione di difficoltà per tutti, quindi sia a livello tattico ho fatto anche difficoltà anch'io e ora sono qui per dare una mano e aiutare il Brescia nel suo obiettivo. Ascolta, abbiamo capito che hai il fiuto del gol perché al Brescia segni spesso e volentieri, ma il tuo ruolo esatto cos'è? Mezzala, trequartista? Sì, io ho sempre fatto la mezzala, poi negli ultimi anni a Cittadella anche trequartista, però nasco come mezzala e mi piace inserirmi, far gol, quindi ci provo e se ci riesco meglio. Di te giocatore sappiamo tutto, una cosa simpatica è anche che c'era un po' di brescianità già nella tua famiglia, visto che la mamma di tua moglie è in Brescia. Sì, sì, è vero. La mamma di mia moglie vive qua vicino, quindi sicuramente è una cosa simpatica, carina, però cambia ben poco quello che è il mio lavoro. Vanno, con che spirito arrivi al Brescia e ritrovi la Serie B dopo tantissimi anni e dopo aver fatto praticamente il Giro d'Europa? Ma allo spirito a questa età ci sono poche cose che ti spingono avanti. Per me il rapporto che ho col direttore è qualcosa di speciale che ho trovato nel percorso del calcio, non è semplice. Quando ci siamo sentiti dopo la mia risoluzione a Genova ci siamo parlati, ci siamo capiti al volo quello che lui aveva bisogno, sicuramente in un contesto che già funziona molto bene, perciò non c'era necessità di entrare in una maniera aggressiva nel gruppo, perché è un gruppo sano che sta facendo grandi cose. Quindi noi ci siamo capiti che quelle che erano le sue esigenze e quello che è i pochi mesi che mi rimangono di carriera. Le due cose hanno legato bene. Siete in tanti davanti, in un attacco con tante soluzioni, che cosa ti ha convinto a dire sì, a metterti in gioco in una situazione in cui sicuramente c'è grande concorrenza in una squadra che vuole salire? Sicuramente la fiducia che mi ha dato la società, la società storica, il presidente, il direttore, il mister e tutti quanti sono qui per mettermi a disposizione e so che c'è un parco attaccanti molto vasto, con gente che ha vinto tanto come Rodrigo, Palacio, di esperienza, io sono qui per mettermi a disposizione, sono giovane, ho tanto da imparare e quindi vedremo cosa ne verrà fuori. Sporta, ci sono in rosa prime punte di manovra come Moreo, come Baic, poi una come IE che invece più d'area di regole, tu a quale categoria al partitore? Ma diciamo che io posso giocare sia da prima punta che da seconda punta, per Di Ligo più l'attacco alla porta, più l'attacco alla profondità, diciamo il far gol. Grazie. Grazie.